Musica Artisti affermati ed emergenti fianco a fianco in quella che è ormai considerata la rassegna dedicata all'arte dei nostri giorni. Inaugurata la Fiera di Cesena la ventiduesima edizione di Contemporanea. Anche quest'anno presenti molte gallerie provenienti da tutta Italia e importanti eventi collaterali. Qual è la caratteristica di Contemporanea 2018? Una delle peculiarità di Contemporanea 2018 è di riuscire a spaziare da opere di autori importanti come Giorgio De Chirico con quotazione anche di 300-400 mila euro e poi arrivare a opere di artisti emergenti contemporanei. Quindi è un modo anche per incentivare il collezionismo a tutti i livelli. Poi ovviamente una delle caratteristiche principali di Contemporanea è quella di essere un grande contenitore culturale con tantissimi eventi collaterali. Ci troviamo adesso nella hall di Fiera Cesena dove è stata allestita la mostra Andy Warhol VIP Society a cura di Jonathan Fabio e Eugenio Falcioni e in collaborazione con l'amirabile Arte d'Abitare dove sono presenti una sessantina di opere del grande maestro della pop art Andy Warhol. E poi ovviamente abbiamo altri eventi collaterali molto importanti come l'evento dedicato a Mario Schifano, televisioni a cura di Raffaella Caruso che ci presenta un corpus di opere di Mario Schifano inedito degli anni 70 mai presentato prima in nessuna fiera. Inoltre è anche presente una sezione dedicata agli emergenti che è quella curata da Oscar Dominguez. Esatto, Spazio allo spazio, giunge alla quindicesima edizione. È una sezione dove il curatore Oscar Dominguez seleziona artisti ed è un grande contenitore culturale di stimoli perché proprio i galleristi riescono a trovare talenti su cui investire. Quindi spesso mi succede che artisti presenti a Spazio allo spazio poi l'anno dopo siano presenti ospiti in gallerie prestigiose. È un evento per ogni tipo di collezionista, diciamo dal collezionista che vuole iniziare a quello che ha un collezionista un po' più navigato, tra virgolette. Per cui si possono trovare, come dicevo prima, autori storicizzati di grandissima importanza e di grandi quotazioni e opere di autori emergenti bravi ma ancora con delle quotazioni accessibili. Quindi opere che sono intorno e sotto i 5.000 euro. Anche quest'anno contemporanea alla Fiera di Cesena, quali sono le novità, insomma, quello che non si è visto l'anno scorso? Beh, intanto devo dire che noi siamo molto contenti. Sì, questo è un evento a cui tenevamo molto, che fa parte uno degli elementi della partnership fra Cesena Fiera e Romagna Fiere. Quindi non avevamo una mostra, diciamo, proprio sull'arte contemporanea, quindi questo va a coprire un vuoto. Devo dire che io, pur non essendo un esperto d'arte, certamente ho apprezzato l'anno scorso e quest'anno ancora di più la qualità, diciamo, estetica dei quadri, delle sculture che ci sono. Sicuramente io credo che questa è una fiera che avrà un seguito, avrà un futuro e mi auguro anche che possa avere un successo di pubblico. In fondo fa parte di questa strategia di riempire di contenuti questo contenitore molto bello che credo sembra proprio costruito apposta per questo bellissimo evento. E quindi io credo che, insomma, noi ormai nel periodo fieristico della struttura qui di Cesena è ormai riempito di tantissime manifestazioni. Poche qualcuna organizzata anche da noi, come prossimamente ci sarà ruotando, ma soprattutto organizzato da soggetti esterni. Questa è un po' la nostra funzione, quella di promuovere anche eventi che organizzano altri. E la partnership con Romagna Fiera va in questa direzione. Si passa dall'arte al romagnolo, all'oggettistica, insomma, la fiera ormai presenta un po' di tutto. Sì, noi puntiamo più che ad eventi quantitativamente molto elevati, puntiamo a fare delle cose di qualità e di nicchia. Devo dire una cosa molto interessante che abbiamo fatto poco tempo fa è questa fiera internazionale dell'Asparago, l'International Asparagus Day, che ha avuto un grandissimo successo internazionale, nonostante che sono entrati in due giorni 2.000 persone, quindi un numero ristretto, però abbiamo avuto più del 50% della produzione mondiale di asparagi. Ecco, questo, ad esempio, anche questo dell'arte, vuole essere un appuntamento nel segno della qualità di questo territorio, però, diciamo, è un modo anche per valorizzare degli artisti locali, per valorizzare comunque chi è interessato all'arte in questo territorio. Non ha ambizioni, credo, diciamo, di fare una roba straordinaria dal punto di vista, però ha una roba di qualità legata a questo territorio. Io credo che questa è un po' la nostra missione che stiamo cercando di portare avanti. Assessore, anche quest'anno contemporanea in Fiera Cesena per mostrare ai visitatori quelle che sono le ultime tendenze dell'arte. È un appuntamento molto importante. Ringraziamo Romagna Fiera per aver scelto la Fiera di Cesena per allestire questa esposizione che riteniamo particolarmente significativa perché dà l'opportunità alla città di vivere un'importante opportunità culturale. Devo dire che anche il percorso di avvicinamento a questa esposizione è stato molto significativo, avviato già da qualche settimana e che ci porterà in questi giorni a vivere appunto momenti molto, molto importanti. Un luogo di visita, diciamo, per i visitatori, per poter conoscere, ma anche un luogo di incontro per gli artisti. Assolutamente sì. In questi padiglioni ci sarà appunto la possibilità di ammirare le opere d'arte, di confrontarsi sui temi dell'arte e anche appunto di acquistare opere d'arte. Quindi credo che ci sia proprio la possibilità di vivere l'arte a 360 gradi. È una delle iniziative culturali della città che si è inserita all'interno della Fiera di Cesena. Sì, riteniamo che anche appuntamenti culturali come questi diano la possibilità di arricchire il cartellone della Fiera e di questo rendo merito e anche senso di gratitudine anche al presidente Renzo Piracini appunto per aver ospitato all'interno di questi padiglioni un importante appuntamento culturale. Spazio allo spazio è una specie di rassegna all'interno della rassegna dove lei in questa veste non fa l'artista ma fa il curatore quindi invita altri artisti molto emergenti ad esporre in questo spazio. Qual è il significato all'interno di Contemporanea 2018? Allora, questo è uno spazio molto aperto in quanto allo spazio, proprio per l'architettura dello spazio. effettivamente le artisti che coinvolgono sono in genere artisti giovani che cercano di inserirsi diciamo nel panorama artistico anche nazionale. Qui rispetto agli altri anni abbiamo uno spazio aperto quindi si inserisce all'interno di quella che è la manifestazione. Sì, effettivamente abbiamo dovuto lavorare tanto perché comunque la visibilità di un lavoro all'aperto è molto più difficoltosa. Però gli artisti hanno saputo interpretare lo spazio e penso che la riuscita è ottimale. Proprio in centro alla fiera troviamo questa bellissima installazione molto suggestiva con le foglie per terra, la panchina e siamo con l'artista che l'ha realizzata, Ignazio Fresu. Che cosa ha voluto raccontare con questa sua installazione? Questa installazione si lega a quella che poi è tutta una simbologia legata alle foglie che viene da Omero in cui collega le foglie che muoiono al rinnovarsi delle stirpe, lui dice, nel senso che da le foglie nascono nuova vita. Le foglie morte in questo caso qui sono delle foglie che sono un po' particolari perché sono pietrificate, come se fossero bloccate in un momento eterno per cui il divenire non esiste più, però è un luogo, diciamo, un posto dove uno riflette in un momento, in un'assenza di tempo l'esistenza e il divenire del proprio essere. Qual è il materiale di cui sono fatte, diciamo, ricoperte queste foglie? Queste foglie sono di una resina che ho messo a punto che permette di renderle apparentemente come di pietra e poi in realtà questa resina è elastica quindi è possibile calpestarla senza danneggiarle, senza far sì che si frantumino. Schifano era affascinato, appassionato dal mezzo televisivo l'ha messo anche nella sua arte, come possiamo vedere, anche nella mostra presente a Contemporanea. Certo, come tutti gli artisti pop, più che dal mezzo televisivo lui era affascinato dal movimento, dalla velocità, dalla rielaborazione veloce delle immagini ed è debitore, da un certo punto di vista, del futurismo. Verso la fine degli anni Sessanta inizia ad utilizzare, come tanti artisti italiani, la tele emulsionata e il soggetto di questa sua indagine è appunto la televisione. Quel che più gli interessa però non è l'immagine, ma un frammento che lui riesce poi a trasformare in immagine nuova, in qualcosa di diverso. È una ricerca che in Schifano parte veramente da lontano, parte dai monocromi degli anni Sessanta, dove il nulla, il monocromo, il colore pieno che è assenza e presenza, veniva isolato da una sagoma che ricorda appunto già il fotogramma a TV. Grazie a tutti!